Buongiorno a tutti, ore sette e mezza, l'aria è più fresca rispetto a ieri, un po' meno umido e si comincia subito con dei filettini meravigliosi di maiale, filettini di maialino tra poco vi dico come li facciamo il condimento per scottare i filettini, sale e pepe, un poco di sugna, un poco d'olio e un poco poco di burro tre consistenze diverse dove immergeremo i nostri filettini eccoli qua, ed eccoli qua, quasi scottati del tutto, pronti, via. Il secondo step di stamattina la pecora in cappotta, praticamente un capretto completamente distossato che andremo a farcire con pancetta, romano, fior di latte e mollica di pane. Il tocco finale, il pirolè è pronto, la farcia pure manca il prezzevolo e va in forma. Intanto, ed eccolo qua, il super rollè d'agnello con le patate novelle, siamo quasi pronti, anche il sole bacia il nostro rollè vedete, inizia a uscire anche il fior di latte con romano, le patate sempre più saporite e c'è una troupe televisiva noi stiamo facendo colazione, vi aspettiamo, buon weekend a tutti! ciao!